buongiorno a tutti allora magliettina del gigione eccola qua come sempre la faccio vedere in maniera veloce veloce dalle tasse di orecchie torniamo un attimino su e partiamo 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 perché dobbiamo vedere le cinque squadre italiane come sono state sorteggiate in champions e vedere anche se è andata bene è andata male è andata così così poteva andare meglio poteva andare peggio eccetera 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 sapete benissimo ormai essere in prima fascia in quarta non cambia nulla perché comunque devi affrontare due squadre per ogni fascia id per cui le fasce servono solo per distinguere nove squadre nove squadre nuove squadre e nuove squadre andiamo a vedere lasciamo per ultimi bilan juventus e intere partiamo dalla atalanta l'atalanta ha pescato prima fascia real madrid e barcellona affronterà real madrid in casa e il barcellona fuori casa seconda fascia arsenal in shakardonex aspettate che controllo se è giusto sì esatto quindi bene aveva già messa e precise prima fascia seconda fascia terza fascia celtic e young boys e quarta fascia stulgraz e stoccarda allora per quanto riguarda la prima fascia poteva andare meglio perché comunque in prima fascia c'erano anche ma insomma non è che ci fosse granché da scegliere perché c'era real madrid manchester city bayar monaco paris san germain liverpool d'ormund l'ipsia e barcellona l'unica squadra di prima fascia diciamo perché anche lo stesso l'ipsia d'ormund sono sempre squadre da prendere con le molle certo prendere real madrid e barcellona non è francamente il massimo però in prima fascia quelle erano quindi chi capita capita diciamo che magari il barcellona è sempre meglio di manchester city bayar monaco e liverpool da prendere real madrid però poi in seconda fascia ha preso l'arsenal che è sicuramente una delle più forti e lo shatter che potrebbe essere comunque un avversario sulla carta abbastanza giocabile per intenderci poteva andare sicuramente peggio visto che in seconda fascia c'era l'everkusen c'era l'atletico madrid c'era il benfica c'era l'arsenal il brugge diciamo che forse prendere brugge era meglio che dello shatter d'ones ma poi molto meglio del non c'era nulla per l'arsenal benfica atletico madrid e l'everkusen sono tutte squadre tosse le altre italiane quindi non poteva sicuramente prenderle come terza fascia senti che young boys dirai che la terza fascia non è andata a malaccio c'erano il feo non lo sporti nel pietro e dove quella dinamo la dinamo zagabria che presumo salisburgo lille quindi young boys e celtic direi che proprio libidi le vado molto bene in quarta fascia l'atalanta ha preso lo stulgraz e lo stoccar ecco magari lo stoccar era meglio evitarlo in ogni caso c'erano slava bratislava monaco sparta praga aston villa girona toccarla stulgraz e brest lo stulgraz va molto bene lo stoccar da diciamo un pochettino meno vediamo potenzialmente quanti punti può fare l'atalanta con real madrid e barcellona se riesce a farne uno e tanta roba poi all'arsenal in casa se la può giocare lo shatter fuori potrebbe fare tre punti quindi siamo diciamo a otto poi salti di casa facciamo 11 andiamo a 11 young boys fuori facciamo 12 anche 14 stulgraz in casa facciamo 17 ma diciamo che a 18 può arrivarci ecco tendenzialmente può fare 18 punti che potrebbero ampiamente bastare lo dico per stare tra le prime otto ma quasi parere personale del gigione le partite sicuramente difficilissime solo con le prime tre le due gare in casa con real madrid e arsenal e la sfida a barcellona poi con charta celtic young boys e stulgraz si potrebbe fare la classifica 12 punti si potrebbero 10 12 punti si potrebbero fare con lo stoccar da credo che l'atalanta possa anche riuscire a vincere ma comunque lo dovrebbe perdere quindi un altro punticino diciamo che minimo 12 13 punti fino ad arrivare anche a 16 18 l'atalanta ce la può fare tranquillamente a stare nelle sedici non so se delle prime otto ma delle prime sedici penso di cdc di sci veniamo al bologna il bologna il bologna usate il mio raffreddore ha preso il d'orbud in casa e liverpool fuori lo shatter in casa al benfica fuori il lili in casa lo sporting fuori il bonaco in casa e la storia e la storia fuori il bologna lo vedo molto molto male a tutte squadre non semplici l'unica forse forse facile tra virgolette lo shatter in casa in parte il lili in casa in parte il monaco in casa perché poi andare a giocare a d'orbud andare a giocare a liverpool andare a giocare col benfica in portogallo andare a giocare con lo sporting in portogallo adesso ha qualcosa l'atalanta che fece abbastanza fatica con lo sporting e poi andare a giocare contro l'astonvilla il bologna non lo vedo benissimo vediamo un po tendenzialmente un punto col dorm si può fare liverpool penso di no con lo shatter possono fare in tre punti fanno quattro col benfica se va bene arrivano a cinque fanno un bel pareggio con lili in casa potrebbero andare a 8 vincendo pareggio con lo sport in dove le 3 12 con il monaco e poi con l'astonvilla fuori sarà dura diciamo che forse a 12 punti ci arrivano e con 12 punti delle prime 24 riescono a starci vediamo all'inter che volevo lasciar dopo l'inter la lasciamo per ultimo andiamo alla juve ha giusto bologna d'arbore liverpool vabbè prima fascia che ti capita capita shatter va bene benfica un po meno per la seconda fascia lille sporting via di mezzo diciamo così poteva andare meglio in terza fascia e buona costo villa quarta fascia proprio di veramente andata male 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 veniamo alla juventus prima fascia city elizia diciamo che la prima non è il massimo la seconda ci può stare poi seconda fascia benfica così così bruci va molto bene seconda fascia terza fascia psv e lille direi libidine ci sta ci sta non sono squadroni poteva anche andare meglio però non è che quarta fascia poteva andare meglio perché stoccardi aston villa non sono sicuramente degli avversari morbidosi visto quello che c'era a disposizione come quarta fascia cioè lo slovan lo sparta praga il brest e lo strugraz andare a prendere aspettate che controllo stoccardi aston villa diciamo che non è andata benissimo anche se lo stoccardi lo mettono terzo ultimo della lista dei nove come però è sempre una squadra da prendere con le bolle veniamo ai punti che potrebbe fare la juve allora con il city un pareggio in casa lo può portare a casa la vittoria non credo però le vie del signore sono infinite pareggio anche con l'ipsia fuori si può portare a casa magari anche una vittoria potrebbe anche perdere però diciamo due punti tra city e l'ipsia benfica tre punti penso che siano scontati il bruxi può andare a vincere diventano già otto psv fanno 11 con l'il fuori si può arrivare a 14 stoccardi in casa 17 a stovilla fuori diciamo che anche la juve può arrivare tranquillamente a 17 18 punti veniamo al milan liverpool in casa e real madrid fuori ecco sicuramente hanno preso tutte e due squadre forti mentre le altre hanno anche il bologna dormono e liverpool toste il la juve ha preso il city che è tosta e l'ipsia è giocabile ecco per intenderci il milan ha preso due squadre difficili comunque un punticino con liverpool in casa si può fare con real madrid mi sa di no bruxi in casa tre punti l'everkusen fuori il punticino lo può portare a casa quindi diventa già cinque perché allora liverpool 1 bruxi 3 l'everkusen 4 c3 4 e 1 5 5 stella rossa in casa si va a 8 dinamo zagabria potrebbero essere 11 girone in casa facciamo 14 e slova anche il milan 17 18 punti li può fare tranquillamente per quanto riguarda il sorteggio prima fascia malissimo ha preso le penso che peggio poteva solo essere city e real madrid vedendo le squadre che ci sono real madrid e city e bayern monaco ecco paris san germain e liverpool l'ha messo dietro a paris san germain e bayern monaco però credo che sia lì insieme alle altre quindi il milan prime due prima fascia male seconda fascia bruxi e l'everkusen una buona una un po' meno terza fascia molto bene due squadre jugoslave la stella rossa e la dinamo zagabria serbia e croazia credo non picchiatemi se ho sbagliato nazione magari uno mi dice no gigi e montenegro vabbè comunque sono essi jugoslavia stella rossa belgrado e dinamo zagabria zagabria il girona è un punto di domanda però è una squadra che partecipa per la prima volta alla champions quindi è e lo slava bratislava va benissimo il girona un po' meno ecco però ha perso doddick non è più il girona dell'anno scorso squadra che partecipa per il primo anno diciamo che al milan a parte le prime due con le altre può fare molto bene ha sei partite in cui potenzialmente può fare anche 18 punti quindi il milan lo vedo bene le altre a parte il bologna possono giocarsi tranquillamente i primi 16 posti quindi diciamo che possiamo riuscire a portare un paio di squadre magari nelle prime due no una sì una sicuramente può arrivare tra le prime otto quella che vedo meglio tendenzialmente è il milan proprio perché le altre sei spartite sono potenzialmente da tre punti le prime due no le prime due già portare a casa il punticino con il liverpool in casa sarebbe tanta roba o poi se vincono applausi poi con le altre ragazzi miei hai il brugia in casa certo andare a giocare alle vercuse non è semplice ma poi hai la stella rossa in casa la dinamo zagabia fuori il girone in casa e lo slavon bratislava fuori giochi in casa con la teorica più forte delle sei a parte le vercuse delle altre quattro perché giochi in casa con il girona che credo sia la più forte tra stella rossa a dinamo zagabia e slavon bratislava giochi in casa con la stella rossa ragazzi miei tre punti sono d'obbligo sei il milan poi vabbè se vai avanti a giocare come stai giocando fai anche zero punti però sulla carta veniamo all'inter perché l'inter le è andata così così per quanto riguarda la prima fascia visto che ha preso l'ipsia che va molto bene per essere una prima fascia l'ipsia va molto bene era la squadra meno forte dell'otto che potevi prendere perché barcellona dormun liverpool paris san germain bayern monaco city real madrid direi che l'ipsia va benissimo l'ha messo davanti al barcellona però io credo che il barcellona sia un pochino più pericoloso dell'ipsia il city sappiamo benissimo che squadra sia non c'è bisogno e in più devi giocarci in trasferta molti sono contenti perché aspettano la rivisita ma io temo che a manchester prendiamo la mazzulata poi abbiamo l'arsenal in casa e mi evoca brutti ricordi l'arsenal in casa il bayern l'everkusen fuori quindi abbiamo preso due squadre toste nella seconda fascia andiamo a vedere la seconda fascia l'everkusen era la più pericolosa l'arsenal me lo mettono in basso a metà classifica diciamo così però tenete conto che l'arsenal sono due anni che si gioca il titolo col city di premier league quindi squadra da prendere con le molle il l'everkusen addirittura è la prima squadra della seconda fascia quindi le prime quattro per l'inter a parte l'ipsia sono tutte toste poi dopo abbiamo stella rossa young boys bonaco e sparta praga con cui possiamo fare l'unpline di fare almeno dieci punti mi aspetto almeno dieci punti con stella rossa young boys bonaco e sparta praga minimo e poi devi riuscire a battere sia l'ipsia che l'arsenal in casa e portare a casa il pareggio col bayern l'everkusen diciamo che l'inter può fare anche lui da un minimo di 12 13 punti a un massimo di 17 18 punti tra juventus inter e milan vedo e anche l'atalanta l'inter la vedo messa un po' meno bene mi spiace dirlo poi non è che voglio fare né il piangino né niente ma vedendo le squadre che affrontiamo potenzialmente questi sono i punti che possiamo fare tre punti con l'ipsia si spera tre punti con l'arsenal il pareggio con l'everkusen e una decina di punti con le altre quattro partite tra stella rossa young boys monaco e sparta praga quindi 17 poi se va bene che ne fai 12 con queste quattro squadre riesce a battere le due sia l'ipsia che l'arsenal e un pareggio col bayern l'everkusen sarebbe il top col city mi aspetto una sconfitta di misura 1-2-0 non mi faccio troppe illusioni anche se molti aspettano questa partita per la rivincita della finale di due anni fa ma se fosse a san siro vi direi magari sì ma giocare a manchester sarà durissima poi bisogna vedere come si arriva calcolate che la prima partita in casa con il lipsi arriva subito dopo la sosta per la nazionale che dovrebbe essere il 18 di settembre teoricamente vedremo vedremo è è un mascello vedo tante squadre che possono arrivare a 17 18 19 punti o giù di lì poi naturalmente ci sarà quella che ne farà 24 vincendole tutte e vincendo sicuramente andando al primo posto e vedrò vedo una bucchiata tra le migliori intorno ai 16 17 18 punti in ogni caso credo che con 12 13 punti riesci comunque a qualificarti per giocarti almeno gli ottavi stando nelle prime 24 poi bisogna vedere se 6 16 15 17 18 24 ecc 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 poteva andare meglio poteva anche andare peggio devo dire che della sfiga il Milan ha 6 squadre abbordabilissime e 2 squadre tostissime l'Iter ha 4 squadre da prendere con le molle l'Ipsia City Arsenal e Bayer Leverkusen le 4 squadre con cui può fare una decina di punti perché temo la trasferta a Monaco non contro il Bayer ma contro il Monaco una squadra del Principato mentre invece con Jan Stella Rossa Jan Bois e Sparta Praga se giochi 9 punti li puoi portare a casa quindi diciamo 10 punti con queste 4 e 6-7 delle altre 16-17 punti se riescono teoricamente a fare è importante la partita in casa con l'Ipsia gara da vincere anche 3-2 4-3 non mi interessa è una gara da vincere perché se inizi a pareggiare con l'Ipsia poi diventa dura sei obbligato a vincere le 4 con Stella Rossa Jan Bois Monaco e Sparta Praga sei obbligato a vincere in casa con l'Arsenal e hai l'obbligo di non perdere col Bayer Leverkusen perché se no rischi non solo di non essere tra le prime 8 ma anche di non essere tra le prime 16 perché poi le medio piccole difficilmente riescono a fare tanti punti quindi credo che con una decina dozzina di punti nelle prime 24 riesci a stare tranquillamente però capite benissimo che un conto è essere nelle prime 16 quindi tra la 9 e la 16 posizione e un conto è arrivare tra la 17 e la 24 che va a fare un preliminare per gli ottavi contro una squadra tosta vedremo vedremo poteva andare meglio ripeto chi vedo vedo male 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 è il Bologna perché ahimè ha il Dortmund e il Liverpool poi lo Xhater vabbè te la puoi giocare il Benfica fuori il Lili in casa lo Sport in fuori il Monaco in casa la Stonvilla fuori è dura è dura è dura però magari con una decina di punti presi di Riffa o di Raffa riesci a stare nelle 24 e poi a giocarti il tuo preliminare per gli ottavi che capita io penso io penso che tutte e cinque hanno le possibilità per andare almeno al preliminare per gli ottavi a stare nelle 24 poi vedremo tutto può accadere detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio fatemi sapere cosa ne pensate se vi è piaciuto il sorteggio non vi è piaciuto se speravate qualcosa di meglio chi vedete meglio per entrare nelle prime otto tra le cinque italiane eccetera 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 come vi dicevo Atalanta Inter Juventus e Milan le vedo tranquillamente tra le 16 poi magari qualcuna riuscirà anche a entrare tra le prime otto il Bologna lo vedo tra le prime 24 credo sia difficile che riesca a stare tra le 16 però il preliminare per gli ottavi secondo me lo fanno tutte e cinque vedremo come andrà lo scopriremo solo vivendo come cantava quello là detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio ditemi la vostra e naturalmente ci vediamo alla prossima ciao